Siena Su raccordo Siena-Firenze possibili disagi per la chiusura dello svincolo di Poggi Bonzi Nord. Sulla statale 1 Aurelia chiusura dello svincolo di Monte Pescali in direzione Livorno. La viabilità cittadina a Firenze da oggi per lavori alla rete del gas, restringimenti tra Via della Torre e Via della Capponcina. Oversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!